Si terrà il 18 e il 25 ottobre del primo novembre presso il bar Zeus in località Corno d'Oro di Eboli la prima edizione del festival Voce e Speranza. L'evento ideato da Maria Candelabro nasce dalla volontà degli organizzatori di aiutare il prossimo. L'incasso di questa prima edizione verrà infatti devoluto all'associazione Teloregalo con il Cuore, che si occupa di ragazze madri, genitori in difficoltà economiche ed orfani. Nei tre giorni di gara numerosi cantanti neomelodici, fra cui Tony Taurisano, Tony Albano e Rosalba Senatore.